Occidente ed Oriente, a prima vista, sembrano mondi lontani. Ma non è così. Un certo giorno, molto tempo fa, si sono sfiorati ed allora non hanno mai smesso di cercarsi. Oggi sono più vicini che mai. Occidente e Oriente si sono sfiorati sulle sponde di un fiume. Da notare che nei fiumi corre l'acqua. È importante. Eraclito, siamo nell'antica Grecia, patria dell'Occidente, cinque secoli prima di Cristo, spiega ad un suo allievo che tutto scorre, Pantarei, e che non è possibile fare due volte il bagno nello stesso fiume. Esattamente negli stessi giorni, davvero strana la coincidenza, dall'altra parte del mondo, in India, patria dell'Oriente, il giovane Siddhartha, dopo aver abbandonato ogni forma di ricchezza e dopo aver tanto camminato, si siede sotto una pianta, all'ombra, davanti a un fiume, guarda l'acqua, la vede scorrere, si illumina, cambia nome. Da allora lo conosciamo come il Buddha. Questa doppia storia, assolutamente vera, dimostra che parlando di pensiero umano, gli sviluppi più fruttuosi si verificano spesso ai punti di interferenza tra mondi diversi. Allo stato attuale delle cose esistono evidenti punti di contatto tra le antiche saggezze e le conoscenze più recenti della scienza, ed è affascinante osservare come tutto porti a quella idea di unità di tutte le cose, bene evidente nel pensiero degli antichi, sia occidentali che orientali, idea di unità di tutte le cose che poi per lungo tempo abbiamo perso, idea di unità di tutte le cose che stiamo recuperando proprio in questo nostro tempo strano. Di questo si occupa l'epigenetica. Uno di questi punti di contatto, uno dei principali, capace di portare all'idea di unità di tutte le cose è sicuramente l'acqua, quella che correva nei fiumi del nostro breve racconto, quella che corre all'interno del nostro organismo. L'acqua è la molecola maggiormente studiata. Sarà l'acqua a portarci notizie importanti nel prossimo futuro. Grazie a tutti.